bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo episodio di minecraft signori io sono maullo 941 e ritorniamo con le nostre avventure su questo gioco che non ci stancherà mai signori decisamente no prima di divertire il video signori vi ringrazio per i like per i commenti presenti e per il supporto vi ricordo sempre di iscrivervi al canale signori cosa facciamo oggi allora mi sono reso conto che allora intanto siamo nella versione 1.21 signori siamo nella versione 1.21 quindi abbiamo sbloccato le nuove caverne quelle che si possono trovare sotto le nuove stanze che si possono trovare sotto sottoterra ma per fare quelle ci serve un un libraio e che ci dà la mappa e possiamo andare a cercare però signori prima di andare in questa avventura io voglio fare dei progressi in questa serie ovvero intanto dobbiamo trovare dei diamanti l'obiettivo di oggi è trovare diamanti perché noi ne abbiamo semplicemente 20 con 20 non ci facciamo l'armatura e soprattutto non ci facciamo nemmeno gli strumenti quindi direi step 1 trovare diamanti e riuscire a farci un'armatura e gli strumenti step 2 incantare tutto se potrei trovare una fortezza per andare a uccidere per andare a regolare blade road step 4 trovare gli enderman step 5 andare nella fortezza del nether riuscire il drago ci vorrà tanto tempo sei signori anche perché con un episodio a settimana ci vorrà molto tempo allora io devo farmi intanto un piccone nuovo io spero di avere decido del ferro si abbiamo del ferro abbiamo degli sticchettini si facciamoci un piccolo a 9 signori perché dobbiamo andare in caverna noi abbiamo il l'inventario che è completamente una merda però va bene possiamo mollare qualcosa così da evitare di fare tutta questa confusione devo anche fare un magazzino signori decisamente sì devo anche farmi un magazzino cosa che in questo momento ci manca ok così siamo un attimino più ordinati sì a parte le pepite di ferro che mettiamo qui non abbiamo altro ferro che cazzo dici come non abbiamo altro ferro abbiamo cibo come se non ci fossero domani ma siamo a corto di ferro signori cioè questi sono gli unici 26 blocchi che abbiamo di ferro ottimo bene bene va bene non ci curiamo di questo ma andiamo avanti signori il nostro obiettivo di oggi è trovare diamanti quanti ce ne servono non lo so che bellino l'ingresso che abbiamo fatto la nostra della nostra della nostra della nostra casa signori prima di andare a trovare diamanti signori nel senso andremo a trovare diamanti in questa galleria che avevo cercato per galleria nella grotta che avevamo iniziato a scavare qua sotto signori quando ci serviva del materiale che non mi ricordo nemmeno perché cosa ma non ce ne sbattiamo altamente dovremmo anche sistemare questa galleria perché fino a un certo punto l'ho fatta larga 3 quindi si scende che è una bellezza l'ho fatta alta 3 quindi scendiamo come se non ci fosse un domani qui avevamo esplorato e poi abbiamo abbandonato tutto non ti spaccare le ginocchia io qui ho iniziato a scendere infatti vedete che abbiamo iniziato a sbattere la testa perché non ce la facciamo con con l'altezza mi ero fermato qua perché mi ero decisamente rotto le scatole di scavare da solo signori il bello di minecraft è rompere le scatole anche chi guarda il video quindi iniziamo a scendere ora che io ricordi l'obiettivo cazzarola siete voi lapisdazzoli aspetta però possiamo fare una cosa zio tanto stiamo andando in caverna non penso che che giusto mi spunta un creeper dalle spalle mentre sono in caverna di gradirei anche di no quindi facciamo un attimino un resoconto così lapisdazzoli che ci possiamo prendere ma quasi quasi mi riprendo signori il gioco me li da e io me li prendo senza ombra di dubbio posso prenderli con un piccone di ferro se ok sto distruggendo il piccone di ferro in maniera inutile se però non ce ne frega nulla recuperiamo tutto ok questi ci servono per fare gli incantesimi signori quindi sono molto importanti chiudiamo qui così lasciamo tutto bello carino e pulito continuiamo a scavare come se non ci fossero domani allora se non ricordo male i diamanti si trovano a un'altezza di 58 quindi comunque noi abbiamo di meno 58 chiedo scusa di meno 58 tanto bello quando minecraft quando erano a quanto era meno o meno 11 meno 12 non dove scava tutti sti cazzarola dei blocchi mamma mia mamma mia che rottura delle scatole però va bene scaviamo scaviamo signori ora scaviamo magari altri qualche altro blocco e poi vediamo distruggiamo questo piccone e capiamo a che altezza siamo arrivati distruggiamo questo piccone e capiamo a che altezza siamo arrivati di quanto ancora dobbiamo romperci le scatole scavare come se non ci fossero domani scava 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 sì perché io non ricordo giusto a che episodio siamo arrivati perché sto registrando però dobbiamo dare un attimino di di velocità ora io poi off camera signori vedrò di continuare a fare dei livelli se oggi dovessimo riuscire a trovare diamanti se oggi dovessimo riuscire a trovare diamanti off camera vedrò di fare dei livelli così in modo tale da da nel prossimo video nel prossimo video incantare tutto tornare al nether signori e trovare una cazzola di fortezza perché dici ma la fortezza cosa ti serve la fortezza mi serve per le blaze road signori senza le blaze road non possiamo no si è distrutto il piccone si è distrutto il piccone a che cazzola di altezza siamo queste mezz'ora scala meno 28 dai siamo vicini all'obiettivo signori siamo vicini all'obiettivo le blaze road che poi con le lander per possiamo andare a trovare il portale ma l'armatura di avanti incantata se mi serve oltre che per un discorso di blaze road anche per un discorso di andare a trovare un nuovo il nuovo le nuove le nuove strutture che hanno messo nella 1.21 che mi sa che ci sono dei mostri molto antipatici e che cazzarola subito dai ma perché dovete rompermi le scatole io stavo scavando tanto tanto carine coccoloso e questi mi devono rompere le scatole e te riesco a ammazzarti da qua no perché sei stronzo quindi devo per forza scendere farmi ammazzare guardate che sono che sono carini che sono cari ai a mia mi ha colpito il bastardo mai ti ammazzo ma aspetta però è scemo sì ma fino a un certo punto scemo sì ma fino a un certo punto è parte la guerra è parte la guerra ok 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 aia 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 perché lui mi sta pigliando da dietro aiai mannaggia tecchi non tradici pure spara spara sei coraggio spara ti ammazzo male ti ammazzo male aiai ok fermi tutti torce come cosa cazzarola è successo allora dobbiamo mangiare signor dobbiamo mangiare perché stiamo a morire stiamo a morire stiamo a morire ok sei tu che rompi le scatole ok perfetto aiai maledetto stronti c'è anche un ragno c'è anche un ragno ragnoso aiai e mori bastardo neanche il tempo di iniziare di entrare in caverna già mi stanno ammazzando male ok stiamo calmi stiamo calmi ragnetto tu vuoi vivere o vuoi morire decidi ti do la possibilità di scegliere signori diamanti aia aia mi sa chi vuole morire aia aia ma stiamo scherzando devi morire io tifo per lui muori solo che lui mi verrà ammazzare anche a me diamanti 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 spara spara brutto ok mangiamo un'altra bistecca signori e dobbiamo mettere luci ovunque se vogliamo stare qua sotto perché allora stiamo calma calma e tranquillità abbiamo trovato dei diamanti la qui la caverna gira gira molto in maniera molto carina c'è dell'oro ok che fondamentalmente non ci serve a nulla però ce lo portiamo a casa non fa proprio schifo l'oro ok ok sto mettendo sto cercando di mettere torce ovunque così evitiamo che qualcuno ci spavano alle spalle ci ammazzi male dai così dai così dai così lì c'è dell'oro ok riesce a salire porca miseria sei impedito o il personaggio impedito signori questo stiamo finendo le torce male possiamo rifare guardiamoci che abbiamo di quasi di quasi continua interessante interessante ma niente di che ho fatto piano spavento tutto questo stiamo perdendo la spada bene bene e muori mannaggia a te ok altro diamanto zola signori dove cazzo lo siamo bisogna per allora devo recuperare quel diamanto zio perché sicuramente noi non riusciremo più a ritrovarlo quindi mi fate recuperare questo diamanto zio grazie mettimi un poco di acqua qui che scenderà velocemente noi sfruttiamo l'acqua di discesa io non ho più torce sono un pazzo per scendere qua sotto senza torce dai così dovremmo avere dei diamanti signori dei diamanti dovremmo averceli qualcuno dovremmo averlo già trovato senza troppa fatica ora non ricordo dove cazzo era il diamante era qui sopra la ce ne sono altri due bello così signori ma che fortuna abbiamo la cazzo era il diamante ah è la ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto recupero missione recupero diamante ora il discorso è questo diamante è vuoto sotto no ok però non mi fido troppo io signori metti uno di qua metti una torcia qui scendiamo di qui e rompiamo il diamantozzo ok uno ce l'abbiamo signori dobbiamo recuperare quei due la sotto come cazzo ora ci andiamo quella del ferro cazzo il ferro mi serve il ferro mi serve perché ne abbiamo pochissimo quindi recupera questo ferro questo ferro una missione si è trasformata in tutt'altro però va bene però va bene dai è così altro ferro per noi buono buono recupera 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 due bocchettini di ferro che non fanno mai male no 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 recuperiamo quelli quegli amantozzi qua sotto ci sarà il delirio signori noi dobbiamo ricordarci da dove siamo arrivati in tutto questo e questo è un grosso problema questo è un grossissimo problema dobbiamo ricordarci da dove siamo arrivati ok saliamo ancora saliamo ancora ok metti una torcia qui una torcia lì altro ferro per noi bellissimo signori di questa sessione bello 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 mi piace mi piace mi ricordo del ferro anche che ci serviva come il pane ok l'altro in tutto questo ci si sta anche rompendo la spada non vorrei dire ma recuperiamo diamantozzo 1 diamantozzo 2 l'ho preso vero sono tre diamanti ok tre diamantozzi per noi quanto ferro otto pezzi di ferro va bene c'è più niente così a prima vista un'occhiata veloce potremmo andare a vedere la sotto ma no mettiamoci nell'acqua ok e torniamo sulle nostre sui nostri passi signori nostri passi che avevamo tanto da andare a recuperare non vedo non vedo più niente passi un altro po di ferro non mi farebbe schifo però signori questa è un'altra bella caverna da andare a visitare tutta ma non abbiamo i tempi tecnici per fare anche questo però chi se ne frega ci inoltriamo signori ci inoltriamo ho avuto paura che fosse un buco e potessimo morire male signori cazzo non abbiamo comunque addirittura sta dicendo sul serio scende e che mi dai non è quello che penso no una miniera quello che penso sì è proprio quello che penso e anche lo pensa anche lo scheletro che sta avvenendo ammazzarmi allora non fermi tutti fermi tutti fermi tutti signori allora noi abbiamo degli obiettivi degli obiettivi che si chiamano siamo diamanti per oggi quindi tanto avremo questo poi avremo questo pagina 1 può dire che non ho mai scritto le coordinate di casa in questo libro ma cosa cazzo mi stai dicendo allora miniera miniera abbandonata x meno 193 y meno 45 z z non so quanto cazzarola è fatto z meno 8 ok era facile z meno 8 signori questa miniera l'andremo a beccare un'altra volta non oggi un creeper ci ha appena fatto saltare in aria siamo vivi per miracolo siamo vivi per miracolo questo è un segno del destino questo è un segno del destino che ci dice torna velocemente da dove sei venuto perché possiamo morire male e quindi noi il destino dobbiamo ascoltare sempre il destino ti da e vedi dove ti porta però il destino a recuperare l'altro ferro bene così bene così recupera recupera ferro per noi ferro per noi a portarci a casa 10 blocchettini di ferro che li abbiamo presi precisi signori secondo me sono 12 a voglia ok noi da dove venivamo venivamo da là già stiamo a sbagliare signori mettiamo delle belle torce qui che ci fanno capire che la nostra miniera è qua sotto e torniamo c'era velocemente nella zona perché abbiamo lasciato dei diamanti da quel lato dei diamanti da quel lato e i diamanti non vanno lasciati anche perché il nostro obiettivo è il nostro obiettivo di oggi sono i diamanti signori sono i diamanti e sali porca miseria quanto cazzo ci sta e sali seri incretinito ok ok recuperiamo la nostra bellissima acqua mangiamo e torniamo cena a casa velocemente noi siamo venuti da qua da qua ok abbiamo tra l'altro tanti bei materiali recuperati tipo questi lapislazzoli che questi ci servono per incantare come se non ci fossero domani signori questi ti danno anche esperienza che a noi serve quindi via 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 oddio la redstone ti da più esperienza però con la redstone non ci facciamo nulla perché ok che ora hanno messo tutte le varie l'autocraft nel nel cosino del ora si può fare l'autocraft in maniera particolare ma io con la redstone non ci so fa proprio nulla proprio sono negato però la recupero perché fondamentalmente ci serve per l'esperienza dai così stacca no speravo mi staccassi 32 livelli di esperienza e invece non me li ha staccati loro recuperiamo magari se andiamo nel nel nether ci può servire per fare qualche qualche scambio tecnico tattico lo spazio ce l'abbiamo sì di qua c'era niente no perché abbiamo messo delle di là c'è uno scherzo che evitiamo velocemente scendiamo giù non ci ha visto meglio così di là c'è dell'altro ora invece lo scherzo ci ha visto il bastardo non lo devi picchiare con le con le costolette di maiale devi picchiare con la cosa mannaggia a te tutto questo stiamo perdendo la spada però va bene io lo so che lì sotto ci sarà il buco quindi appena mi lancio cadrò male ma infatti noi non ci lanciamo ah ok ci è finita bene quest'altro ora l'abbiamo recuperato scendiamo noi siamo venuti da qua sì qui c'è la lava quindi qui c'è la diamantozzo ok recuperiamo il diamantozzo signori diamantozzo per noi diamantozzo per noi solo uno solo uno solo uno mannaggia 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 quindi siamo un totale di 4 ok possiamo farci il piccone di sicuro possiamo completarci l'arma no neanche perché nell'armatura sono 24 sono 25 pezzi noi siamo a 24 così non va bene non va bene non va bene non va bene recupera tutto recupera tutto vediamo se di qua c'era qualche altra cosa noi veniamo da redstone prendila ok noi veniamo da qua giusto il mio buco è questo sì ok di qua c'è sta qualcosa diamantozzo signori diamantozzo per noi bello così veniamo star redstone che come abbiamo detto fa sempre comodo recupera 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 li ribadiscono non ci serve a niente star redstone però potremmo farci qualcosa di interessante col col rosso diamantozzo per noi diamantozzo per noi dai così 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 e uno no sono due signori sono due questo è pesantemente culo questo è pesantemente culo questo è pesantemente culo Sono tre, sono tre Mamma mia Siamo a un totale di nove Nove vanno bene Qua finisce tutto Metti una torcia che non si sa mai Ok No Signori Ma stiamo scherzando Stiamo scherzando Signori Fantastico, bello così Quanti sono? Uno E due Signori, undici diamanti Venti ne abbiamo a casa Siamo a quota 31 31 ce ne facciamo le cose signori 31 decisamente facciamo un sacco di cose Prossimo video signori Mi porto a casa un bel po' di livelli E andiamo a incantare Tutta la nuova armatura e tutti gli strumenti Signori, per nuove avventure Detto questo signori, io vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo obiettivo Bella raga, ciao 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 Grazie.